Vai Alessandro dove ce l'hai? C'hai il boga? Fa lo staccare un po' magari Quanto ufficiale hai usato? 190 Casi rossi Per quello mi metto Però mica appunti si incaglia e ho smesso di pescare per mezz'ora Se riesci a fare senza è meglio Hai fatto del 120 che gira Quanto è meglio dire Adesso Allora sganciamo questa cosa Vediamo se ci riesco io Non c'hai le ancorette libere Eh è quello Casino Ma però il boga è per quello Eh bravo si prendi il finale Ok Ehi è Era bravo Ehi Oh grande Alessandro Vai speriamo che sia arrivato il branco Oh lo rilasci? Si Vabbò dai chiudo ti faccio una foto e mi metto a pescare Vabbò dai Vabbò dai